La Serie B riparte nel weekend del 20 e 21 giugno, questa la decisione dell'Assemblea in videoconferenza di ieri. Dunque ci siamo, tra poco più di due settimane si tornerà sul terreno di gioco per disputare la giornata 29, quella dello scorso 14-15 marzo, mai disputata a causa dell'epidemia Covid che iniziava a farsi strada in maniera tragica nel nostro paese. Dunque all'Adriatico ci sarà Pescara-Juve-Stabbia. La gadetteria però avrà un antipasto mercoledì 17 con il recupero della sesta di ritorno tra Ascoli e Cremonese. Gara che a fine febbraio non si giocò perché nella cittadina Lombarda la situazione era già molto seria. Dieci giornate di stagione regolare in sette settimane con tre turni infrasettimanali, tutti di martedì, il 30 giugno, il 14 luglio e il 28 luglio. Ultima giornata di regular season, il 1 agosto, inizio dei play-off il 4 agosto e finale di ritorno il 20. Play-out invece il 7-14 agosto. Previsti orari preserali e esterali, il primo slot o alle 18.30 o alle 19, l'altro o alle 20.30 o alle 21. Per quanto riguarda la post-season, tutto confermato in alto, la prima e la seconda classificata salgono direttamente in Serie A. La terza viene invece determinata mediante la disputa dei play-off che si giocano. Se fra la terza e la quarta non ci sono più di 14 punti di distacco, fra le sei squadre arrivate in classifica dal terzo all'ottavo posto, prima ci sarà il turno preliminare. La gara è di sola andata tra la sesta e la settima e fra la quinta e l'ottava e prevede, in caso di parità dopo 90 minuti, la disputa dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità non si disputano i calci di rigore, ma vince la squadra meglio classificata nella regular season e poi via via si va verso la finale del 20. Per quanto concerne l'ultimo atto, le vincenti delle semifinali disputano gare di andata e ritorno, quest'ultima in casa della meglio classificata in campionato. In caso di parità di punteggio, dopo 180 minuti si tiene conto della differenza reti nelle due partite. In caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra meglio posizionata in classifica al termine del campionato. Solo nel caso in cui le due squadre avessero terminato il torneo con lo stesso punteggio in classifica, la gara di ritorno prevederebbe anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. In basso retrocesse direttamente in Lega Pro le tre squadre ultime classificate, la quarta viene individuata da due gare di andata e ritorno fra la quart'ultima e la quint'ultima, se non hanno più di quattro punti di distacco. In questo caso retrocede direttamente anche la quart'ultima classificata senza la disputa del play-out. In caso di parità dopo i 180 minuti il regolamento ricalca quello della finale play-off. L'altra vera grande novità tuttavia sarà l'apertura alle cinque sostituzioni. Via libera come richiesto dalla federazione ai cinque cambi da distribuire in un massimo di tre momenti durante la gara.